Per introdurre alla vela i ragazzi tra i 6 e i 13 anni, le scuole di vela adoperano comunemente gli Optimist, piccole imbarcazioni di poco più di 2 metri di lunghezza, con una superficie velica di 3,25 metri quadrati. Prima di cimentarsi con la vela e il vento, i ragazzi vengono preparati ad affrontare varie situazioni di emergenza. Per questo scopo è stata scelta una giornata di maestrale. I neovelisti vengono portati in gommone in un tratto di mare al ridosso dell'isodotto del campo e qui imparano a risalire in barca o a ragrizzare lo scafo dopo una scufiata. Grazie. 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 Grazie a tutti. dell'isolotto il vento è teso e il mare è un pochino arrabbiato un pochino Dal momento di andare via l'ancora si è incattivita e l'istruttore è costretto a immergersi per svedarla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.